Il rivitalizzante successo esterno nello scontro diretto con il Villa 2015 ha confermato i progressi già intravisti nella precedente sfida casalinga con il Lanciano. E per il Casalbordino che solitamente trova il giusto mordente in gare con avversarie di un certo spessore, l'appuntamento odierno con la Corazzata L'Aquila può essere un giusto propellente motivazionale per cambiare definitivamente registro e cominciare ad allontanarsi dalla sempre temibile orbita play-out. Non saranno evidentemente della stessa opinione i temuti rosso-blu che al contrario cercano il lascia passare per proseguire nella corsa a braccetto con le altre grandi del campionato. Le prime avvisaglie di una giornata poco fortunata per quel che riguarda la prospettiva della truppa giallorossa si palesano sin dalle prime fasi di gioco, quando il fallo di Scognamiglio sullo scattante La Selva lanciato a rete costa al difensore un cartellino giallo, ma per il fantasista casalese la sorte è segnata, dovendo abbandonare il proscenio per infortunio e scombussolando di fatto i piani tattici di Mr. Benedetti, costretto a masticare Amaro al primo affondo rosso-blu dalle parti di Tano, che manca l'uscita sullo spevente da fermo di Simoni anche a causa dello scontro fortuito con Nazzari e consegna di fatto un pallone invitante per l'appostato Tempestili che non si fa pregare più di tanto per infilare la sfera nella porta rimasta di fatto incustodita. La squadra aquilana amministra il vantaggio senza strafare, ma prima della mezz'ora si rende protagonista di una interessante opportunità per rimpinguare il punteggio, anche se in questo frangente l'irruzione in area di Acosta, che vince il duello a sportellate con Nazzari, viene azzerato dall'intervento di Tano che si rifugia sul fondo. Prima del rientro negli spogliatoi il Casalbordino confeziona una ghiotta opportunità per rimettersi in carreggiata, ma Bozzi è determinante per opporsi alla conclusione a botta sicura di Della Penna. Alla riapertura dei giochi il suo dalizio giallorosso prova a colpire con il siluro dalla distanza di Falcone, ampiamente fuori portata. È decisamente più cinica la truppa di mister Giampaolo, che allo stesso minuto del primo atto rinnova l'appuntamento con la rete. Stavolta la conclusione di Dercole trova la fortuita deviazione di Sec, che contribuisce a sorprendere il proprio portiere costretto alla seconda resa domenicale. Tano deve intervenire qualche minuto dopo per abbrancare a terra la sfera sul temibile diagonale di Acosta. I locali hanno una ghiottissima opportunità per rientrare in gioco, ma Fanelli non riesce ad approfittare sino in fondo dell'inattesa sbandata della retroguardia aquilana. Gli applausi per la semirovesciata in area del neoentrato Budano sono in realtà l'ultimo grosso sussulto della squadra di casa, che negli ultimi 20 minuti non farà molto per rimettere in sesto una situazione oggettivamente compromessa. L'Aquila, al contrario, cercherà in più occasioni di arrotondare il divario. Al 26esimo, Tano salva distinto sulla zampata ravvicinata di Brunetti, ma deve arrendersi tre minuti dopo quando Carbonelli fissa il tris rosso-blu con una spettacolare rovesciata che approfitta della fortuita deviazione di Nazari. La gara è ormai senza storia e i rosso-blu rischiano di dilagare con Tano, che riesce ad arginare la conclusione ravvicinata di Dercole, anche con l'aiuto del palo alla sua sinistra. Prima del rompete le righe, le annotazioni di cronaca ci raccontano di altre occasioni fallite da Ponzi e Ranieri, ma per il Casalbordino la punizione sarebbe stata troppo eccessiva. Padron Santoro, oggi una gara gagliarda della squadra, ma anche sfortunata, dicevo con il mister, con tre cambi già nella prima mezz'ora, la dice tutta? Eh sì, diciamo è stata condizionata dagli infortuni avvenuti in campo sia ai calciatori sia alle azioni di gioco, perché non dimentichiamoci, dopo tre minuti Andrea La Selva ha lanciato come ultimo uomo al limite dell'area di rigore, è stato scaramentato a terra, quindi è stato un incidente non colposo, preterintenzionale da parte del difensore dell'Aquila, l'arbitro ha ritenuto che fosse dietro la linea dei difensori, quindi non avanti, quindi solo giallo, Andrea ha dovuto uscire per una lesione alla spalla, e quasi contemporaneamente dall'altra parte su un cross innocuo, un'uscita del nostro portiere che perde la palla e praticamente consegna il gol del vantaggio agli avversari. Mister Giampaolo, oggi una vittoria importante su questo terreno, una squadra che forse rispecchia lo spirito del proprio allenatore, una squadra pragmatica che va dal sodo più che al calcio champagne. Ma oggi era una partita da vincere a tutti i costi, perché per non staccarci dalle prime posizioni i ragazzi hanno fatto benissimo, hanno approcciato bene la gara, abbiamo avuto anche diverse occasioni, oggi è andata bene, è andata bene perché ci voleva questa vittoria dopo i due pareggi e la sconfitta che abbiamo fatto con l'angolana, per cui continuiamo il nostro percorso, sono contento per i ragazzi. Grazie.